Tra gli affezionati delle Iso, perché spariscono di casa non uno ma ben quattro giorni, troviamo Mauro Sussan, raccontaci un po' di questi quattro giorni. Diciamo che doveva essere una fuga molto limitata, poi visto che gli eventi si svolgevano in maniera estremamente positiva, ho prolungato questa trasferta. Mi sono trovato, non so se per caso o per ragioni di bravura, al primo posto e l'ho mantenuto fino all'ultimo evento. Poi all'ultimo evento ho avuto un out-out. Dalla moglie magari? Assolutamente sì. E sono stato costretto a non fare l'ultimo evento, sperando che nel frattempo quelli che erano in classifica con me non facessero dei punti. Va bene, qui parliamo delle Iso 2.012, comunque anche nelle Iso 2.013 ovviamente c'è la classifica, classifica che verrà decretata a maggio. Sì, per il momento siamo tutti uguali, adesso vediamo come si sviluppa questo primo evento e poi valuteremo nei successivi quello che si riuscirà a fare. Ma stavolta verranno a prenderti? No, no, questa volta ho tolto il telefono a mia moglie, ce l'ho io, quindi non può chiamarmi.